Ciao e bentornato Oggi volevo farti vedere un sistema che forse non tutti sanno ovvero quello di poter andare a ripescare tutte quante le canzoni che noi abbiamo fatto riconoscere a Siri attraverso appunto l'app integrata all'interno di un qualsiasi dispositivo iPhone quindi dopo l'integrazione di quello che è Siri con l'applicazione di Shazam ebbene sì perché forse non tutti sanno che ad oggi praticamente se voi siete possessori di iPhone non è necessario quindi scaricare ulteriormente l'applicazione di Shazam perché basterà chiederlo a Siri di far riconoscere una canzone ovviamente che stiamo ascoltando per poterla poi ovviamente andarla a risentire, ricercare eccetera eccetera però che cosa succede? A volte succede che quando noi facciamo riconoscere la canzone a Siri poi ovviamente siamo costretti magari a fare un screenshot piuttosto che andare a vedere come si chiama e segnarla non sappiamo però che in realtà Siri va a raccogliere tutti quante le nostre canzoni che noi abbiamo ascoltato attraverso appunto Siri chiedendolo a lei in un elenco che noi abbiamo come cronologia di ascolto appunto di sorta di rubrica di conservazione di tutti quanti le canzoni che noi abbiamo fatto ascoltare attraverso Siri e vediamo com'è semplice poterlo fare allora come prima cosa ovviamente dobbiamo aprire il nostro iPhone e che cosa fare? ovviamente per motivi di copyright non posso farvi ascoltare la canzone però presupponiamo che in questo momento io abbia chiesto a Siri di farmi ascoltare ovviamente una canzone che cosa succede? una volta che ovviamente me l'ha riconosciuta che cosa fa? mi fa vedere ovviamente il nome della canzone però in questo momento quando io vado a chiudere Siri ovviamente la canzone si perde magari devo ricordarlo oppure vi ripeto fare uno screenshot eccetera ma se noi invece andiamo sull'applicazione nativa che troviamo in qualsiasi iPhone tranne se ovviamente non l'abbiamo cancellata ovvero quella di iTunes Store che cosa fare quindi? ci clicchiamo sopra e non appena entriamo dentro a questa applicazione come in questo caso ci dobbiamo dirigere vedete in alto sulla destra sulle tre lineette una volta cliccato su queste tre lineette dobbiamo dirigerci sulla funzione di Siri ebbene in questa schermata vedete come in questo caso ovviamente saranno riprodotte tutte quante le canzoni che io ho fatto riconoscere a Siri attraverso ovviamente il metodo di ricerca vocale dicendo semplicemente ehi Siri che canzone è questa? oppure ehi Siri riconoscimi questa canzone e quindi Siri si andrà ad attivare e quindi si metterà all'ascolto della nostra canzone dopo pochi istanti ovviamente ritroveremo la nostra canzone qui dentro quindi senza che dobbiamo necessariamente effettuare screenshot oppure ricordarci necessariamente come si chiama quella canzone e ovviamente il tutto lo terremo salvato in una sorta di cronologia spero che questo video ti sia stato utile se ti fa piacere iscriviti al canale metti mi piace con la campanellina e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao